E' finalmente X-Factor, amico Lattaro! Volevamo venire il tragiudici qua sul palco per cortesia, perché noi avevamo... E' un po' di unisio! C'è il music di provare che ho da parare come sei visto. Grandissimo Amara Maiocchi! Ce l'ho messa tutta! The Bastard Sons... No, ho sbagliato! Scusate, ho sbagliato! The Bastard Sons of Diardo! I nostri ragazzi! Arriva Claudi! Arriva Claudi! E questi sono i nostri ragazzi! Ciao! 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 Ciao, Pietro! Ehi! Pietro! Pietro! andiamo in Parigi Jobs, Jobs, dove sei Jobs? Andrea? Andrea? Jobs? ed ecco a voi dice il Francesco che presenterà i vari gruppi prendendo vari gruppi, allora, gruppo di destra gruppo di destra, confusione, gruppo di sinistra, disastro e conforme da che parte che sei Varda, tu ne la figo sempre Bastard of the Road beh io l'ho cambiata adesso volevo intervistare la mente del gruppo praticamente vorrei sapere secondo la mente del gruppo come mai ci sono aspettato, ho visto successo ho successo come vuole lei no perché stavo intervistando il miglior gruppo Trentino e addirittura italiano e qualcuno mi ha tolto l'audio, lo so che... c'era il problema tecnici allora, stava dicendo tutta la fortuna culo culo ho detto io direi che fa di fare... no, proviamo a vedere se c'è la idea al suo compagno culo 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 e il terzo incomodo? culo o culo? eh, tre teste in uno perché non ci fate... perché non ci fate sentire un vostro assolo, un vostro navatta cantone? no, io so potendo... un'improvvisata è un'improvvisata dei Buster una canzone... ci faranno sentire i ragazzi buona ragazzi tutti ai moratti che è il penale una canzone scusate, Abramari non se la sente proprio quest'oggi cioè, ha giù la voce, non se la sente però abbiamo i Buster che vogliono cantarci una canzone anche a noi quello che ci piace guarda ragazzi dai va bene, guardate quello che volete l'importante è che non date... che non mi uscite siete i migliori non c'è... noi... noi non possiamo farmi... guardate... siete una... siete bravissimi bravi non c'è niente da dire bravi per me va bene tutto io sono fiero di essere bastati grandi questi ragazzi sono veramente forti fortissimi tutti 3 4 3 4 4 questo è originale è? brevi 5 6 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 Un'altra parola, Mark! Oliva sul palco, vai! Sì! Sì! Pronti, quando prendo l'isolazione è un momento molto delicato, per questo ve la... Pronti, quando prendo l'isolazione è un momento molto delicato, per questo ve la... Pronti, quando prendo l'isolazione è un momento molto delicato, per questo ve la... Per questo ve la... Grandissimi! Un applauso! Veramente grandi! Avete un personaggio, il fratello delle... Delle... Delle amiche, scusate... Che, se ci lasciano un minuto di silenzio, vi facciamo fare un amico a fuori della Mayonche, che è strepitoso! Buonasera, buongiorno a tutti! Allora, io cosa devo dire? Lo so... Questi bastardi sono miti! La mia socia qui! Guarda, ti sfidaci che fai sempre bene a guidarci! E niente, all'inizio credo fossero delle persone un po'... Devo dire che l'ho trovato in una condizione molto buona e mi sono piaciute! Speriamo di continuare, mi raccomando, votate i bastard! Guarda, impegniamo bene! Grandissimo! Il mio stra-applauso è veramente meritato! L'Ambra Marie vuol cantare! L'Ambra Marie Crecola! L'Ambra Crecola Marie! Grazie! Grazie!